Signore e signori, buongiorno! Ecco a voi il condominio Altea con la sua grande piscina. È immerso nel verde ed è dotato di parcheggi. È situato in Calle Goethe, a Lignano Riviera. L'appartamento di tipo B ha una bella terrazza dove si può mangiare fuori, con vista sulla piscina e sul giardino. Soggiorno pranzo con divano doppio e climatizzatore. Televisione. Angolo cottura con frigorifero doppia cella. Camera matrimoniale oppure due letti singoli. Bagno finestrato con doccia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.